Ancora nessuna destinazione chiara sull'area in cui ricostruire il nuovo edificio che dovrà ospitare il liceo Cotugno dell'Aquila. Incertezze inoltre sui tempi che ci vorranno per completare i lavori di miglioramento e rafforzamento sismico del vecchio edificio scolastico di Pettino alla periferia ovest della città. A riportare l'attenzione sulla vicenda del Cotugno ma in generale su tutta la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare scolastico dell'Aquila indietro nella ricostruzione a causa delle solite lungaggini burocratiche che attanaiano il settore delle opere pubbliche è l'associazione Scuole Sicure animata dai genitori degli studenti aquilani. Ci vorranno ancora almeno due anni per avere una sede del nuovo Cotugno denuncia Massimo Prospero Cocco portavoce del movimento. L'assessore all'edilizia scolastica della provincia dell'Aquila Calvisi però tranquillizza, dice che si sta andando avanti, che ci sono comunque circa 3 milioni di euro destinati. Sì, cerco, i soldi sono stati stanziati, i lavori sono iniziati però il problema dipende sempre dalle gare pubbliche, gli appalti pubblici che hanno il loro tempo. Adesso Calvisi certamente starà facendo del suo meglio per ottenere più rapidamente le cose ma stiamo fuori tempo massimo ormai da 10 anni. Ci si doveva pensare prima? Ci si doveva pensare notevolmente prima anche perché i soldi ci sono stati a disposizione ormai da anni, forse 5-6 anni, ci sono 42-33 milioni a disposizione per ricostruire scuole nuove. Si deve ripartire da lì, è assurdo che una città come l'Aquila dopo 10 anni al terremoto una sola scuola è in fase di costruzione, una sola scuola nuova. Quando abbiamo finanziamenti per ricostruirle tutte nuove e avere indici di vulnerabilità altissimi, para 1 è scuole sicure. Il futuro delle scuole sta lì, il futuro dell'Aquila sta lì voglio dire. Prospero Cocco, ma qual è la situazione? Quante sono queste scuole da ricostruire? Allora le scuole sono, basta dire un numero, all'Aquila ci sono complessivamente 11.500 studenti, di cui circa 1.200 vanno a scuole private che stanno in edificio ricostruiti e sicuri. Ci sono 10.380 studenti nelle scuole pubbliche, di cui 4.900 sono ancora le MUSP, tutte scuole da ricostruire.